Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella Pani. Oggi faremo una lettura angelica, valida per una settimana dal momento in cui la stai guardando. Utilizzeremo tre mazzi di carte e suddivideremo la lettura in tre gruppi, gruppo A, gruppo B e gruppo C. Ora faremo una preghiera di protezione all'Arcangelo Michele per chiedere guida ed assistenza. Vi chiedo con amore di chiedere agli angeli, all'Arcangelo Michele, qual è il gruppo di appartenenza o i gruppi di appartenenza più giusti per voi. Potrebbero essere uno, due o tutti e tre i gruppi. Iniziamo la preghiera. invoco la divina presenza di Dio Dea, Onnipotente, Padre e Madre, i miei angeli custodi, il mio Sé superiore, gli angeli custodi, il Sé superiore di tutte le anime che con tanto amore stanno aspettando la lettura angelica settimanale. Invoco te, Arcangelo Michele, invoco il Maestro Gesù, Maria, Maria Maddalena e l'intera coscienza micaelica. E con amore vero, puro e sincero, vi chiedo di purificare la nostra energia, le nostre intenzioni, parole ed azioni, di radicare la nostra energia fino al centro della Madre Terra e di creare uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità, dove possa entrare solo luce, amore, pace e guarigione. Chiedo massima protezione, guida ed assistenza per me e tutte le anime che con tanto amore stanno seguendo la lettura angelica. Grazie caro Dio, grazie Arcangelo Michele, grazie al Maestro Gesù, grazie Maria, Maria Maddalena e grazie all'intera coscienza micaelica. È fatto, è fatto, è fatto e così è e così sia ora, per sempre e per l'eternità. Tu e i tuoi cari siete al sicuro per il gruppo B? In questa situazione è necessario e utile pregare. Gruppo C. Ok, migliora con la musica per il gruppo A. Gruppo B. Ridi. Interessante. Gruppo C. Felici aspettative. Ok, iniziamo la nostra lettura angelica. Ok, senso dell'umorismo per il gruppo A. Esci dal dramma, esci dalla paura, esci dal giudizio di te stesso e degli altri. Cerca di vedere anche le cose positive, magari in quegli piccoli imprevisti che stai vivendo, in questi aspetti della tua vita che un po' ti stanno preoccupando. ridi, scherza, la vita è bella, la vita è piena di gioia. Non prenderti troppo sul serio, va bene? È venuto il momento di sciogliere un pochino l'ego, il giudizio, la paura. Goditi la vita per quella che è, anche perché tu sei un'anima molto intuitiva, hai la capacità di capire cos'è vero, discernere il vero dal falso, qual è la strada da intraprendere. Ascolta la tua intuizione perché sei guidato, sei guidata. Magari hai bisogno di meditare di più, di entrare in preghiera, di ascoltare della buona musica che ti aiuta a riconnetterti con la tua coscienza superiore, con i tuoi angeli, con le tue guide. Hai proprio bisogno di ritrovare te stesso, te stessa al centro. Ok? Va bene? Bene, gruppo B. Allora, tu e i tuoi cari siete al sicuro. Lascia andare la paura, lascia andare veramente questo senso quasi morboso di attaccamento ai tuoi figli, ai tuoi genitori, ai tuoi fratelli, al tuo compagno, alla tua compagna, in quanto esiste una forza superiore. Le tue preghiere sono ascoltate. Ambi anche la fede e la fiducia che tutto andrà per il meglio. Anche perché ricordiamoci che noi siamo creatori della nostra realtà, quindi se abbiamo felici aspettative, arriveranno cose nuove. Quindi è venuto il momento di pregare di più, di connetterti di più con te stesso, con te stessa, con gli altri, di aprirti anche alla preghiera. Prega, apriti all'amore, apriti a ricevere, apriti veramente all'amore superiore, all'amore supremo e godi delle energie superiori. Quindi ridi anche tu, vedi, anche per te è uscita la carta del non prenderti troppo sul serio, divertiti, godi della vita, perché la vita è un dono meraviglioso. È bisogno magari di uscire un pochino di più nella natura, di uscire con un amico, un'amica, con il tuo partner, di evadere un pochino, perché stai facendo una vita un po' troppo monotona, un po' troppo solo dovere, solo preoccupazioni. No, è venuto il momento di tagliare le corde con tutto ciò che ti sta impedendo di gioire, va bene? Ok, gruppo C, in questa situazione è necessario pregare, va bene? Sei un po' preoccupata, sei un po' timorosa, pregare. La preghiera ti aiuta ad eliminare la paura, la preghiera ti aiuta ad eliminare i dubbi, la preghiera ti aiuta a sentire maggiore serenità nel tuo cuore, va bene? Anche perché tu hai bisogno di agire, c'è bisogno di coraggio, va bene? Tu sei forte, sei coraggioso, togli questo coraggio e esprimi la tua creatività, esprimi chi tu sei al mondo, mostra la grandezza del tuo essere, mostra a tutti la tua grandezza. È venuto il momento di parlare, di agire, di scrivere quel libro, di parlare in pubblico, di iniziare i tuoi corsi, di iniziare a lavorare, di iniziare a dire al mondo chi tu sei e cosa fai per il mondo, va bene? Anche perché, ripeto, felici aspettative alle porte, perché grandi cose stanno arrivando nella tua vita. Grandi opportunità, grandi veramente felici aspettative, quindi fidati di Dio, degli angeli e dell'amore divino, perché apriti a ricevere, grandi cose stanno arrivando nella tua vita. Ora chiediamo agli angeli, all'arcangelo Michele, qual è il messaggio più giusto per il maggior numero di persone possibili. Non perdere di vista l'obiettivo, ok? Vediamo un po'. Movimenti troppo caotici e troppo complessi possono compromettere la visuale del tuo vero obiettivo. Resta con i piedi per terra e muoviti con semplicità e sicurezza. Tutto il resto seguirà con naturalezza. Quindi radicamento, centratura, focus e libero dalle distrazioni, da tutto ciò che ti sta impedendo di essere nel tuo pieno potere, focalizzato o focalizzata nella direzione dei tuoi sogni. Bene, la nostra lettura si è conclusa per questa settimana. Volevo ricordarvi che mi occupo di fare delle sessioni private di riequilibrio energetico, laddove c'è caos nella tua vita, laddove hai bisogno di centrarti, di equilibrarti in tutti i livelli fisico, mentale, emozionale, spirituale, anche se sei dall'altra parte dell'Italia o del mondo, queste frequenze non conoscono né il tempo né lo spazio. Se invece sei interessato e vuoi tu imparare a connetterti con la luce, con queste energie di guarigione potentissime, in grado di cambiare la tua vita, di creare vere e proprie trasformazioni in tutti gli aspetti della tua vita, volevo ricordarvi che la prossima classe di guarigione inizierà il giovedì 14 dicembre. Un corso online su Zoom, potentissimo dal vivo, dal vivo perché interagiremo, non è registrato, però su Zoom, una classe composta da massimo 12-15 persone, nove settimane super intense, dove imparerai tutto sul riequilibrio energetico, in più lavoreremo con Logo Sealing, e in più riceverai quattro sessioni di riequilibrio energetico, proprio per riequilibrarti e poter iniziare al meglio questo percorso meraviglioso. Se invece vuoi fare l'esperienza dal vivo in presenza, farò un corso, un seminario dal vivo in presenza a San Donato Milanese, a partire dal 23 al 26 marzo, quattro giorni di cui due di guarigione, due di connessione al sé superiore, in questo seminario riceverai la tua connessione al sé superiore personale, e prima del seminario riceverai tre sessioni di riequilibrio energetico, quindi veramente sono dei pacchetti dove tu riceverai cento volte in più di quello che è l'investimento in queste esperienze straordinarie, meravigliose, con un dono che poi rimarrà con te per il resto della tua vita, per aiutare te stesso e aiutare gli altri, ok? Se invece vuoi imparare a connetterti con gli angeli, il corso online sulle connessioni angeliche sei settimane più altre tre lezioni, quindi nove settimane o comunque nove lezioni, partirai a gennaio 26, quindi 26 gennaio, venerdì 26 gennaio, ci sono ancora dei posti disponibili, quindi affrettati con le iscrizioni, va bene? Volevo ricordarvi che per chi è interessato mi occupo anche di facilitare Logos Healing, un percorso di coaching da 5, 10, 15 lezioni dove praticamente la tua vita verrà completamente trasformata, puoi lavorare sull'abbondanza, manifestazione, lasciare andare del dolore, della sofferenza, dei traumi, dei blocchi, possiamo lavorare su tutti gli aspetti della tua vita, un lavoro straordinario e una tecnica che poi rimarrà a te e sarai in grado di utilizzarla su te stesso, su te stessa o sugli altri. Per qualsiasi informazione non esitate a contattarmi, io vi saluto, vi abbraccio, a presto anime meravigliose, ci sentiamo la settimana prossima, ciao! Grazie a tutti!